Che cosa fate voi quando vi mandano un'e-mail? Rispondete immediatamente? Oppure aspettate un po', magari qualche giorno, prima di dare una risposta? Io sono tra quelli che rispondono immediatamente, al massimo passeranno due o tre ore per ricevere una mia risposta, ma proprio al massimo. Alcuni mi fanno notare che questo però è un sistema poco chic, non è giusto, si dà l'impressione di essere dei poveracci a rispondere immediatamente, non ci si dà importanza. Eccola un'altra mania stupida di tanti stupidi italiani. Se io mando una e-mail ad esempio a un direttore generale di una grande azienda nordamericana, tempo cinque minuti, ricevo sempre una risposta.